la valutazione di questo prodotto di samsung monitor è di 9.2 voti su 10 risulta essere il prodotto più regalato i punti di forza sono ottimo rapporto qualità prezzo luminosità qualità dell'immagine antiriflesso qualità dello schermo versatilità trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video il voto finale aggiudicato da questo articolo di samsung monitor è di 9 voti su 10 è il più desiderato i suoi pregi sono luminosità antiriflesso ottimo rapporto qualità prezzo qualità dell'immagine qualità dello schermo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video samsung monitor ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8.8 su 10 risulta essere il più esclusivo di questa selezione i suoi punti di forza sono qualità dello schermo luminosità stile qualità dell'immagine ottimo rapporto qualità prezzo leggero il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video